Nel Trapanese un maxi blitz dei carabinieri contro i favoreggiatori del boss Messina Denaro, 35 arresti. La sua foto di ormai una vita fa campeggia sul sito del Ministero dell'Interno, alla voce elenco dei latitanti di massima pericolosità. Era il 1993 quando sparì, un anno dopo le stragi di Capace e di Via D'Amelio, di cui è considerato uno dei mandanti. Condannato all'ergastolo, Matteo Messina Denaro non si è mai fatto un giorno di carcere. Un fantasma da oltre 30 anni, che è vivo e vegeto, sostengono i suoi uomini. Che sia scappato all'estero, come sosteneva Totorrina, gli investigatori ci credono poco. Più probabile che non si sia allontanato molto dalla sua Castelvetrano, nel Trapanese, da dove continua a comandare, protetto da una fitta rete di fedelissimi. La provincia mafiosa trapanese è saldamente nelle mani della ditante Matteo Messina Denaro. Intorno al boss le forze dell'ordine stanno continuando a scavare un solco. Oltre 200 persone, tra parenti e amici, prestano me arrestate in questi anni. L'ultimo blitz questa notte, 70 perquisizioni e 35 arresti, nell'operazione dei Carabinieri del Rosso e del Comando Provinciale di Trapani, coordinati dalla DDA di Palermo. Tra gli arrestati, Francesco Lupino, ritenuto fedelissimo del superlatitante. Era uscito dal carcere tre anni fa, ma secondo gli inquirenti, già all'indomani della sua scarcerazione, avrebbe ricevuto direttamente da Messina Denaro le direttive per designare reggenti del territorio. All'ultimo grande padrino di Cosa Nostra, oggi 60enne, hanno anche confiscato beni per centinaia di milioni di euro. Un anno fa speravano di averlo individuato in Olanda, ma la pista era sbagliata. Le leggende aumentano, come quella che con un intervento chirurgico abbia cambiato i suoi lineamenti, rendendo forse ancor più diversa la sua immagine da quella presente negli archivi del Ministero.